Salve a tutti, un caro saluto da Francesco Samani. Allora, benvenuti in questo nuovo video relativo al concorso ordinario STEM A028 previsto per il 5 maggio 2022, come è stato pubblicato nella community, agli orari che sono stati comunque pubblicati. Trovate tutto nel canale YouTube. Prima di cominciare, quindi con questi quiz specifici, diciamo più specifici per la A028 che mi sono stati richiesti da uno di voi, vi ricordo che qui sotto in descrizione troverete tutti i link dei gruppi studio. Questi link possono essere utili per coloro che vogliono mettere a disposizione le proprie conoscenze. Qui sotto troverete in descrizione i link dei vari gruppi studio. Se qualcosa dovesse mancare, me lo scrivete nei commenti e io eventualmente provvederò ad aggiungere un gruppo studio. Ovviamente se siete un numero adeguato possono essere molto comodi, soprattutto per quei colleghi che si trovano bene a studiare insieme. Ricordo a tutti per sostenere il canale di iscrivervi. Ricordo ancora prima di iniziare che questi video, a mio avviso, sono più specifici per la classe di concorso A028. Troverete inoltre nel canale delle playlist dedicate, quindi immaginate delle cartelle dove troverete tutti i video ordinati relativi alle competenze digitali e a tal proposito, competenze digitali, prova orale, prova scritta. A tal proposito ringrazio tutti voi che ogni giorno mi mandate i quiz che vi sono usciti e in questa maniera io riesco essenzialmente a offrirvi sempre delle risorse molto recenti e attuali che poi si stanno rivelando estremamente utili. Tutto questo nei video relativi alle competenze digitali. Cominciamo subito. Allora, quale affermazione è vera considerando questo grafico dove abbiamo l'insieme A, l'insieme B e l'insieme C? Le varie risposte A, il complementare di B in A, A esclusi gli elementi, meno gli elementi di B unione C, A intersezione B unione A intersezione C, oppure A intersezione B intersezione C. Questa volta preferisco risolvere tutte e quattro le risposte in maniera tale da poter comprendere meglio la logica che c'è dietro. Allora, il complementare di B in A. Allora, presi gli insiemi A, B e C, nella prima domanda C non viene proprio menzionato, il complementare di B in A sono essenzialmente tutti gli elementi di A che non appartengono a B. Quindi sono tutti questi elementi e tutti questi elementi. E quindi vediamo che rispetto al grafico di partenza non abbiamo ottenuto quello che volevamo. A proposito, ne approfitto per ricordarvi che un tema molto dibattuto, su cui non abbiamo certezze, è il fatto che ci potrà essere o meno l'utilizzo di fogli e penna durante il concorso. Allora, ricordo che ci sono quattro risposte chiuse, quattro domande, quattro possibilità, insomma, di dare la risposta chiusa, ma solo una è vera. Proviamo ad andare a fare in tempo reale A meno l'unione di B e C. Allora, il nostro insieme A, che è questo, questo è B, questo è C, e tutto questo insieme qua. Io devo andare adesso a togliere tutto l'insieme B unione C, quindi tutto questo, questo è tutto il nostro C, e tutto anche il nostro B, quindi tutto questo, tutto questo. Quindi devo andare a togliere tutto ciò che è rosso. Proviamoci. Grandiamo un po', proviamo a togliere tutto ciò che è rosso, e vediamo cosa rimane, e lo confrontiamo. E vediamo subito che abbiamo ottenuto lo stesso grafico, mediante rappresentazione grafica di Euler-Rowen, e quindi abbiamo capito che la risposta esatta è assolutamente la B. Ciò non toglie che vogliamo risolvere anche la C e risolvere anche la D, scusate la stanchezza, ma ho scritto due volte C. Allora, A intersezione B, unione A intersezione C. A intersezione B, e devo andare a unire con A intersezione C. L'intersezione C, l'intersezione, sono gli elementi che sono contemporaneamente sia di A che di B. Allora, andiamo a usare il nostro colore, andiamo a mettere le lettere agli insiemi, e A intersezione B, essenzialmente, è tutta questa roba qui. Dobbiamo andare ad aggiungere A intersezione C, quindi gli elementi che sono sia di A che di C. Essenzialmente, l'insieme che abbiamo ottenuto è questo qui, aumento lo spessore, se adesso questa volta ha uno spessore grande, e questo insieme qui. E come vedete, non è equivalente a quello dato in figura, quindi ovviamente anche la risposta C è sbagliata. Proviamo infine ad andare a risolvere A intersezione B intersezione C, quindi gli elementi che sono contemporaneamente di A, B e di C. Questo forse è il più rapido, perché gli elementi che sono contemporaneamente di tutti e tre sono questi qui. Benissimo. Sicuramente è stata un po' più lunga la procedura, perché non ho stoppato, sono andato direttamente, o li ho svolto in diretta, quindi ho avuto bisogno di risolvere quattro esercizi, però probabilmente così è stato capito molto bene il meccanismo che c'è dietro. Ditemi che cosa ne pensate nei commenti qui sotto. Quiz 2. Due insiemi si dicono disgiunti se. Allora, risposta A intersezione B è un sottoinsieme di A. Risposta B, A intersezione di B è un sottoinsieme proprio di A. Risposta C, A intersezione B è pari all'insieme vuoto, non ha elementi. Risposta D, A unione B non ha elementi. Ricordo il simbolo di sottoinsieme. Quindi si dice, ad esempio, che A è un sottoinsieme proprio di B, quando che A è un sottoinsieme di B, ma che qualche elemento di B non è elemento di A. in questo caso si dice che A è contenuto propriamente in B. Viceversa, si scrive A sottoinsieme di B per indicare che ogni elemento dell'insieme A appartiene anche all'insieme B. Quindi diremo in tal caso che A è un sottoinsieme di B o che A è contenuto in B. In ogni caso la risposta corretta è la C. Due insiemi A e B privi di elementi comuni, cioè tali che A intersezione B ci dà come risultato l'insieme vuoto, si dicono disgiunti. Quali delle seguenti affermazioni è vera? A unione B è diverso da B unione A, A intersezione B è diverso da B intersezione A, A intersezione dell'unione di B con C è diverso da A intersezione B, unione A intersezione B, e A intersezione complementare di A è l'insieme vuoto. Allora, rivediamo anche qualche cosa sempre in tempo reale. Allora, prendiamo il nostro insieme A e il nostro insieme B e l'unione essenzialmente sono tutti gli elementi di A, tutti gli elementi di A e B e tutti gli elementi di B. Quindi in questo caso l'unione di A e B è proprio pari all'unione di B con A. Vediamo invece la risposta C. Questo è l'insieme A, questo è l'insieme B e tutti gli elementi che sono contemporaneamente sia A e B sono questi, A intersezione B, il che equivale a dire AB intersezione A. Andiamo a vedere adesso la risposta C. Anche qui, scusate, ho messo due volte la risposta C. Invece, ovviamente, quella è la risposta D, scusate la stanchezza. Allora, A l'intersezione B unione C. Tutto l'insieme A è questo qui. L'unione di B con C è tutto questo. E noi adesso dobbiamo andare a prendere tutti gli elementi che sono sia blu che rossi. Quindi andiamo a cancellare solo quelli blu e andiamo a cancellare solo quelli rossi. E vediamo che otteniamo che A l'intersezione B unito con C, che essenzialmente è questo, insieme a aumento lo spessore, scusate. Adesso abbiamo risolto questa parte. Andiamo a risolvere questa. Ricostruiamo il nostro modello, A, B, C. E andiamo a fare l'intersezione tra A e B. E andiamo ad unire l'intersezione tra A e C. Scusate, anche qui c'è un errore, c'è un rifuso, scusate. Ovviamente ha intersezioni C. A questo punto ci rendiamo conto che i due insiemi sono uguali. Quindi anche C è sbagliato. Adesso andiamo a vedere l'intersezione tra A e il complementare di A. disegniamo il nostro insieme A e consideriamo tutti gli elementi di A. Andiamo a disegnare l'insieme universo. In realtà il complementare di A sono tutti gli elementi che non appartengono ad A. E vediamo che in realtà non ci sono elementi in comune. E quindi in questo caso l'intersezione ci dà un insieme vuoto. Per questo qui la risposta è la D. Benissimo, io vi ringrazio per l'attenzione. Spero che questo video sia stato di aiuto. In realtà ho preso spunto da una richiesta di uno di voi. E vi ringrazio per l'attenzione. Un caro saluto da Francesco Samani. E vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Grazie.